Torna a splendere un piccolo e prezioso ambiente del Palazzo Reale di Torino, la cappella privata di Carlo Alberto, adiacente alla Sala delle Udienze, realizzata da Pelagio Palagi tra il 1837 e il 1839. L'intervento, condotto tra il settembre e il dicembre 2016, è frutto di un protocollo d'intesa tra Musei Reali di Torino e Consiglio Regionale del Piemonte, che prosegue nel tempo con progetti di recupero e di valorizzazione degli spazi e delle decorazioni del Palazzo Reale. Presentiamo il restauro della cappella privata di Carlo Alberto, un piccolo ambiente ricchissimo di dorature, ricchissimo di intagli molto sofisticati, molto raffinati, una perla che rappresenta la cultura di un grande personaggio, di un grande architetto, pittore, designer degli inizi dell'Ottocento, Pelagio Palagi, che è tanto adatto alla nostra città in termini di diffusione di un linguaggio neoclassico molto sofisticato, neoclassico ed eclettico e molto colto.